Quando si cammina, si ferma. Quando non si riempica sulle petre, cosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla pioggia, quando fanno nei palazzi di Saria, poi tutto viene giù, senza consistenza. Quando non si confessa a Gesù Cristo, non viene quello di Léon Blois. Chi non prega al Signore prega al diavolo. Quando non si confessa a Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. Camminare, edificare, costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, da volte ci sono scosse, ci sono movimenti che non sono proprio movimenti del cammino. sono movimenti che ci tirano indietro. Questo Vangelo prosegue con una situazione speciale. lo stesso Pietro che ha confessato Gesù Cristo le dice sì, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivo. Io te seguo, ma non parliamo di progetti. Questo non è giusto. Te seguo con altre possibilità senza la forza. e quando camminiamo senza raccogli, quando edificiamo